Ciao mondo, ci mancherai. Il Torino e l'Atalanta salutano il loro storico allenatore. A 71 anni, Emiliano Mondonico ha finito la sua partita con la vita. Ne aveva vinte tante da giocatore, che aveva indossato anche la maglia nerazzurra, e da mister, amato come oggi dimostra il mondo del calcio, in lutto. In campo si era difeso fino all'ultimo, ma la malattia che lo aveva colpito ha avuto la meglio. Così, nella nostra rete a Sport 2000 con Giampiero Spirito, il suo pensiero era sempre rivolto al futuro dei giovani ai quali ricordava la partita di ciascuno nella propria vita. Il gol vuol dire ogni mattina alzarsi e non pensare alle tue dipendenze, ma pensare alla vita che ti aspetta. Questo vuol dire fare gol. Ciao Papo, sei stato il nostro esempio e la nostra forza. Cercheremo di continuare come ci hai insegnato tu, scrive oggi la sua famiglia. Mentre chi lo amava lo saluta così. Non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno, ed il giorno verrà.